ciao gente simpatica io sono valdor e siamo tornati su ok per come lo fa come con epicità il gioco dovrei riprendermi anch'io the greatest attorney chronicles resolve ecco ho preso un po più di energia adesso allora l'altra volta abbiamo interrotto qui dove siamo esattamente dove davvero rimettere il comando del riassunto quello era troppo comodo ecco ma visto che siamo comunque al secondo streaming con calma ecco allora stiamo continuando a grittis attorni finalmente ne sono contentissimo intanto ciao paul salve ciao ciao anche a te paul e siamo naturalmente al primo caso dove penso aver capito generalmente a grande linea cosa è successo che l'assassino ha pugnalato madame come si chiamava jesse il brett io esplosioni finalmente funzionano che bello ho costretto un po' anagrama a rimettere le esplosioni lui ha detto le ho rimesse ma non l'ho fatto per te o simili bacca o qualcosa su quelle linee ecco comunque miss jesse il brett la l'omicida del primo gioco è morta e io sospetto che sia per via di un pugnale tra questa fessura restano ancora varie cose imprecisate tra cui lei ha in mano una penna ma l'arma del delitto o almeno la presunta arma del delitto non ha stracci di veleno ma lei morendo ha avuto sintomi di avvelenamento quindi è stata uccisa per veleno ma non c'è veleno sull'arma che era stata conficcata sulla sua schiena quindi io si presume che sia la penna arma del delitto ma ce l'ha in mano quindi questo non capisco e poi come spuntato il coltello in mezzo alla scena qualcuno magari avrà spostato spostato la penna ma non ci sarebbe motivo no siamo al punto in cui posso dobbiamo dire dove si stava nascondendo il colpevole perché abbiamo appena scoperto che l'attento e per fortuna premuroso sozeki natsume ha chiesto alla vittima prima che muoia definitivamente chi è l'assassino e lei ha puntato sul retro non ha puntato direttamente alla sospettata la povera rei menbami ma un pochino più verso il retro del della tenda ma giustamente dicono non c'è nessuno sul retro della tenda ma ovviamente la soluzione che era fuori dal retro della tenda dalla parte opposta la difesa vorrebbe presentare alla corte una teoria alternativa una teoria alternativa che può spiegare chi era chi la vittima stava cercando di implicare con il suo gesto di morte una teoria alternativa non esistono ok piccolo appunto dalle ultime due live mi stava laggando un pochino lo streaming dovrei aver sistemato anche dato una modificatina alle impostazioni dei streaming nel caso da un'occhiata adesso mentre mentre gioco teoria alternativa non esiste alcuna in verità lagg anche un minimo ma in verità non si nota neanche troppo transistor mi sembrava ma durante quando ho visto il podcast no come si chiama non c'era più lag e se attorno invece si vedeva un po' di lag spero non sia così grave vabbè è una visual novel lag in una visual novel non è così problematico circa c'era qualcuno altro presente la scena che poteva aver commesso l'omicidio cosa e la vittima miss brett ha provato a rivelare chi era chi era quelli che erano attorno a lei mentre stava morendo con le sue ultime forze ha puntato un dito tremolante alla direzione del killer questa finzione e fantasia bene bene visto che sembra così sicuro di sé sono pronto a sentire questa sua teorie teoria alternativa quindi giovane taru naru kodo si eccellenza presenterà la sua ultima teoria alla corte attraverso questo piano al momento la vita in cui la vittima è stata pugnalata dove esattamente era il colpevole che sta proponendo beh ovviamente dietro il muro al di fuori nel mondo san non si serve mai arreso e io sono un naru kodo ora il vero colpevole che ha pugnalato brutalmente mi sbretterà qui è impazzita è impazzito non sono ancora che una ragazza suggerisce che il colpevole fosse fuori dal capanno cosa ordine ordine ma studente avvocato naru kodo san e sky non ha senso lei ha indicato il punto esatto in cui mi stavo nascondendo per fare il mio scoop ma non ho visto di individui sospetti in giro lo posso giurare sicuro perché non c'è uno specchio ovviamente se colpevole fosse stato lì fuori non c'è modo che non può che lui o lei poteva aver pugnato la vittima che là dentro il capanno in verità procuratore auci c'era un modo è infatti la difesa può dare una prova che suggerisce esattamente come è stato ucciso a miss brett stabile fando tutto 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 le affermazioni della difesa sono chiaramente troppo fantasiose per la corte dovrà darci più guida quale prova corrobore la sua teoria che la vittima è pugnalata da fuori allora normalmente avrei presentato questo perché ha la crepa qui allo spazio qui dentro ma forse a quanto pare il fotografo ha no chiaramente fotografo ha fatto la foto di lato beh direi questo allora non penso ci sia altro che corrobora questa cosa e la fessura sul muro per forza e sia la foto della scena del crimine si è visibilmente è chiara visibilmente chiaro in questa fotografia la traccia della pugnalata fatale fatta da fuori la tenda ci prende per stupidi non c'è simbolo di una cosa simile sono sicuro che tutti quanti concorderebbero qui qualcuno almeno sembra per notato a cosa mi riferisco così di nuovo vi chiedo di essere esplicito va bene va bene dove c'è la traccia della pugnalata che è venuta al di fuori è chiaramente qui guardate attentamente qui ora improvviso c'è uno zoom della fotografia va bene nello schermo sul retro del capanno puoi vedere gli effetti di una lama forzata all'interno della capanna no no non può io non vedo niente è vero che la capanna in questione ha quattro muri come ti aspetteresti però facendo spazio tra le canne un pugnale può facilmente passarci è straordinario sì il vero colpevole ha pugnato la vittima da fuori il capanno e tutti quanti presenti sulla scena c'è solo una persona che poteva farlo solo una persona era direttamente fuori il capanno quando miss brett è stata uccisa rait e mini memo sam potevi essere solamente tu no no che questa stupida idea mi lascia senza parole semplicemente guarda la foto ancora la vittima esattamente al centro vero e immaginiamo come parte di questo scenario no e sta ipotizzando a parte di quel stupido scenario che l'assalitore era un lanciacoltetti era seduta no no certo che no no se ricorda la testimonianza dell'imputata degli eventi prima della morte della vittima era seduta no dentro la capanna ho confrontato miss brett ma si è seduta su una sedia sul retro sorridendomi dolcemente come se sapesse che fosse intoccabile su una sedia che meglio la fotografia guardi meglio la fotografia la fessura sullo sul muro si allinea perfettamente corretto con la schiena di una persona seduta sulla sedia o cielo così infatti la vittima era uccisa mentre era seduta su quella sedia da una pugnalata consegnata da oltre il muro senza usare no clip a quanto pare essendo attaccata miss brett saltata sui piedi in maniera istintiva ma allora non potendo parlare con la super terra in mezzo alla capanna prima che l'imputata davanti all'imputata memba mi sam ho davanti gli occhi di memba mi sam è quella sua eccellenza è la verità di quello che è successo quel giorno non è finita vero mi diranno sono solo supposizioni va beh è un classico su non può finire così facilmente col tuo silenzio io mi nemmeno sam immagino che non nega queste queste accuse questo questo è assurdo bello come fotografo in posa plastica comunque si comincia a fare un po di freschino ho dovuto tenermi questo maglione da casa invece di metterne uno più elegante perché questo è più caldo anzi quasi quasi mi sarei messo ora già senti sentite un attimo avere che un omicidio sulla spiaggia ma la stagione direi che è ben diversa qui mi sento molto meglio molto meglio metto anche le cuffie che ho staccato ok anche perché la mia camera ha tre mu tipo due muri e mezzo tre muri verso l'esterno e quindi prende tipo il doppio della temperatura da fuori non dico che ho freddissimo ma con un giaccone non mi sento così male ecco non so se è adeguato per gli streaming però dai lo tengo un attimo aperto allora uno streaming in giaccone può anche starci eh non dico di no va bene dove eravamo rimasti ah ho spento le casse ok per pare che abbiamo una ammissione tacita di colpevolezza dai testimoni dal testimone quindi al corte ha stabilito la verità troppo facile vuol dire che l'imputata Mbami Sam è inocente del crimine ah cazzo è il cielo non può essere così facile su finalmente l'ho ho trovato la verità diciamo cave cosa sarebbe vabbè grotta ma qualcos'altro devo dire non potevo essere più fiero no non può essere il clan auci non può è della mia crescita la mia crescita di speranza non era tutta una fin non era tutta una un'apparizione non posso accettarlo non vediamo motivo per continuare questo processo quindi mi muovo a concludere le procedure dando il verdetto finale vabbè è rimasto dito finora poteva parlare un po' prima vabbè ammissione silenziosa non accade mai no beh è tutto molto conveniente è come la corte più alta dell'impero da giustizia eh sopprimendo la libertà di parlare dei cittadini e etichettandoli come criminali ma abbiamo stabilito che la vittima è stata pugnalata da fuori attraverso le fessure a quanto pare il mio streaming continua a esplodere ma le esplosioni fan caldo quindi direi che sono più che adeguate grazie Paul mi sento più al calduccio ora poi sarà anche per il giaccone ma una vedi mezzo abbiamo stabilito che la vittima era pugnalata da fuori dal capanno attraverso il muro o attraverso la fessura tra le canne e nessuno se non te e nessuno se non lei era il luogo e tempo per poter colpire col pugnale è una deduzione perfettamente logica quindi il tuo argomento si aggrappa la posizione di dove è stata pugnalata la donna inglese no? beh sembra un po' irrilevante ora irrilevante? dove è stata pugnalata? come è stata pugnalata? non importa voglio dire dove è stata pugnalata non fa differenza se ci pensa dopo tutto questo processo ha già mostrato che tutto quanto si aggrappa su qualcos'altro sul veleno? dice su Zeki è ancora una in posa plastica l'altra invece si guarda anche alle spalle ha guardato la telecamera non ho salutato però di cosa sta parlando? preparati ragazzino parla del fatto che tutto quanto è cambiato per la spazzatura che hai tirato fuori tu eh abbastanza oscurità si spiega il testimone che c'è da spiegare? parlo del veleno ovviamente il veleno? io Zoro quando è l'azione del fuoco attaccato boh faceva caldo immagino ciao Zoro siamo qui a incastrare il testimone e non c'è una cosa tipo la confessione silenziosa ci speravamo e qui fa fresco che perdevo? si ho rivisto che streaming fatemi sapere se si vede un minimo di di lag perché mi sembra che i frame del gioco sono normali ma nello streaming sono più bassi chiediamo al professore un commento sulla situazione ok? ho capito che un veleno mortale che stava sviluppando è stato rubato dal suo laboratorio no? è stato dimostrato che il veleno era stato amministrato la vittima Miss Brett no? è corretto la costrizione insolita delle pupille della vittima sono un segno sicuro che quel veleno è stato usato capisco capisco quindi immagino che vuol dire che la vittima aveva già il veleno nel suo corpo prima che è stata appugnalata ah data che le pupille erano chiaramente dilatate pare probabile sì se fosse stata già morta il veleno non sarebbe circolato nel suo corpo quindi prima è stata avvelenata e poi pugnalata ah 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 rinfrescante sentire l'argomento di una mente metropolitana precisamente non importa chi è impugnalato chi su quale schieno e con quale lama quindi ammesso di averla pugnalata ma non dopo che è stata avvelenata da qualcun altro dice perché semplicemente la vita della donna inglese era stata presa non dal pugnale ma dal veleno ma non può essere spiegato quello può essere spiegato col veleno sulla lama come ho già non c'è sulla lama purtroppo ha già dimenticato qui ragazzino durante queste procedure stesse il laboratorio del professore ha assisti ha dato assistenza per provare che la lama dell'arma usata per attaccare la vittima non aveva traccia di veleno quindi lascio che fammi capire bene no segno segniamo bene la cosa i fatti come abilmente stabiliti dalla difesa in questo processo sembrano essere un come red herring è tipo un era un ca non ca un una distrazione il termine corretto sarebbe c'è un termine corretto per red herring più che distrazione è tipo una cosa che c'è lì per distrarti apposta una sorta di falsapista ma non falsapista no è diverso falsapista è quando fai un'ipotesi che sbagliata o quando segui un'idea che sbagliata ma red herring è tipo un indizio che è lì per sviarti red herring c'è boh anche google dice falsapista ma è ben diverso falsapista indica una via che per me c'è una parola italiana per dirlo ma non mi viene almeno credo ecco se non c'è mi spiace perché servirebbe sembra essere comunque vabbè una falsapista da titolo di giornale specchieto per la lodore esatto sì specchieto per la lodore era ok grazie era quello che cercavo corretto basta con gli urletti femminili femminili ti scoppiano ordine ordine ma dove ci lascia questa cosa come in quel caso è entrato il veleno nel corpo della vittima c'è una risposta ovvia innegabile a quello la signora l'avrà probabilmente bevuto in bbed sarà bevuto inibito perché ho chiuso google translate in bbed assimilato sì bevuto non che qui nel modo fossero tanto mascolini è vero ma lui non ha da nascondere il suo vero sesso ecco vuol dire che l'ha bevuto dia meglio la fotografia qui come può vedere ah quindi ora cambiamo direttamente il luogo cosa su cui indaghiamo una bottiglia di acqua carbonata e un bicchiere sono stati buttati sul pavimento sabbioso sulla spiaggia il vero non poteva essere finito anche lì dentro quindi qualcuno l'ha fatto bene a miss brett beh e cosa sa guarda quegli occhi quegli occhi eroici renderebbe un gran dico sempre eroici ma vabbè guardi quegli occhi sarà una grande foto per il primo pagina ehi cos'è quello sguardo confuso dopo tutto sono l'ultima persona che dovresti guardare non avrebbe senso che avessi avvenenato la donna vero? cioè è già stato stabilito stabilito? di cosa sta parlando? oh non mi dica che ha dimenticato è un po' difficile da credere data la persona che l'ha stabilito era lei e io? che dia tu di questi occhi spalancati questo è in prima stampa sembra che questo processo non è destinato a finire adesso dopo tutto ci eravamo vicini ma è così è così Phoenix Wright va bene no non mi spiace i primi processi poi li fanno sempre lunghi cioè no sono sempre corti ma di grete e sattorni sono lunghi forse per compensare che non sembra che ci siano indagini a più giorni ci sono indagini e processo e basta che non mi spiace per niente in verità chiedo al testimone di dare alta testimonianza è grandioso lascia che faccia una foto per quella barba magnificente sua eccellenza non reagisce no dice che è impossibile che era quello responsabile per mettere veleno sulla vittima spiega alla corte le basi perché dice una cosa simile sono un giorno e sono un uomo non ho mai provato a scappare e nascondere niente in tutta la mia vita e non comincerò ora perché è il minimoismo per un attimo pensavo di aver scoperto la verità ma è scivolata ancora nel buio dove sta finendo questo processo ah continua vero no mi sono dicesse continua continuava ma continuo comunque adesso completa innocenza che titolo titolo da giornale così per stare in tema la musica si fa intensa oh si ho pugnalato la gentil donna ed è quello stesso fatto stesso che prova che sono innocente detto così senza contesto non lo non lo credo ma per ora faccio uno screen e basta c'è ancora quella a destra non se n'è andato il signor a destra magari ci aiuterà con aiuterà più avanti con il classico chiedi agli altri che non parlano perché mai avrei pugnalato la donna se l'avessi già avvelenata quando ho sentito la studentessa e quella inglesina pomposa che parlavano mi è salito ai nervi se la corte non avrebbe punito Brett per quello che ha fatto qualcun altro l'avrebbe fatto ah curioso ammette il tentativo il tentato omicidio ah essendo già avvelenata non l'ha ucciso lui tecnicamente quindi l'ammetti tutto quello che è successo come descritto che sei quello che ha pugnato Miss Brett sulla schiena puoi dare la colpa a questa miserabile nostra regione una regione che si china la pressione di poteri stranieri e lascia camminare liberi gli assassini che futuro può avere una regione così è per questo che l'ho fatto l'ho fatto ho fatto quello che i nostri leader patetici non hanno le palle di fare ho pugnalato la gentildonna sulla schiena ho messo la lama di giustizia proprio lì beh è forte che lo ammette ma forse lo ammette per evitare di ammettere anche il resto come qualcuno che spende la sua vita a vedere come si dice la verità mi sento davvero davvero terribile a dare informazioni false prima ma come sembra ma quanto pare c'era qualcun altro che ce l'aveva con la vittima e l'ha uccisa prima di me è corretto indovinato quella tenera studentessa ora c'è una donna che cerca il mio cuore ma lì c'è che c'è una ragazza che aveva la sua stessa idea lì più o meno ecco sta ancora implicando lei è quella che ha dato il veleno alla gentildonna e ha finito la sua penosa esistenza e l'improvviso snap questo giorno qui è libero l'argomento è solido sicuramente se il testimone ha messo no se se il testimone avesse avvenenato la vittima avrebbe semplicemente atteso l'effetto del veleno quindi pugnare la vittima sulla schiena sarebbe insensato e quindi questo reporter non ha niente a che fare con l'avvelenamento sì è tutto quanto è logico anche se l'ha pugnalata io ciao aritim un consiglio adesso se è urgente se è veloce è urgente senza problemi altrimenti poi se voi ci possiamo sentire su discord no fai pure a qualche motivo riesco a connettere twitch a youtube ah quello ok neanch'io neanch'io è il fatto ho provato anche io più volte in vari modi con più browser disattivando gli adblock non funziona penso che sia un problema di twitch momentaneo penso che sia dato dal leak di twitch e adesso si sta un po' riorganizzando non so quanto ci metterà a riprendersi e così da due giorni tipo ma non ho trovato la soluzione quindi attualmente li sto scaricando e ricaricando seppur sono 7 gigabyte a streaming ma è meglio che posso fare purtroppo andrò avanti così finché non torna ci provo comunque ogni giorno spero che penso durerà al massimo una settimana ecco poi lo sistemano ma è comunque una seccatura si infatti fin poco fa funzionava di nuovo ma c'è stato un grande leak di twitch ha cambiato un po' di cose casine a quanto pare va bene anzi saliva anche me al team perché ora so che non sono solamente io anche a te zoro grazie penso di essere non l'unico perché ho visto online c'è qualcun altro con il problema ma pare che sia globale sicuramente collegamenti con altri siti sono incasinati discordo un pochino ma a quanto pare dopo un po' si è ripreso penso poi altri collegamenti non ho fatto caso ho dovuto un po' rivedere i collegamenti per le esplosioni e altre feature esterne di chat ma basta riconnettersi di quella password perché ho cambiato anche password quindi sono ancora più incasinato ma no ora l'ho sistemato in teoria appunto l'esplosione funziona ok dovremmo rimasti ok confesse di aver tentato l'omicidio ma per averlo tentato non è lui l'omicidio bene è logico è vero sono contento l'abbiate capito finalmente giustizia è incredibile dopo che ho fatto così tanto progresso nel provare la sua colpevolezza se ne andrà via così spccia pensa a Kazuma-san e a Naruto-san non si sono mai fermati a cercare un modo per andare avanti fino all'ultimo giudizio del giudice yey mance per la miffa devo darmi a fare per renderle più importanti me lo dico ogni volta ma non faccio mai niente bene bene il consiglio proceda a quello che immagino essere il suo ultimo controesplosione del eh pardon il suo ultimo contro grazie per l'esplosione bello commissione automatica troppo bello il suo ultimo contro interrogatorio del processo il problema un po' delle esplosioni o del prezzo delle esplosioni è che sono basso perché ha tanti punti e alto per chi ne ha pochi purtroppo ormai c'è un po' di inflazione di punti sul canale quindi non so più come combinare vedrò debba stare ancora un pochino il prezzo magari con altri punti paranagram magari sì sì sua eccellenza ok tempo del contenitologatorio ha solo tre fasi no? ha solo tre tre frasi fasi frasi quattro va bene sono pochine oh sì ho impugnalato la gentil donna ed è proprio per questo che sono innocente hold it perché appunto non hai messo tu il veleno quindi ammetta i suoi i suoi intenti omicidi verso Miss Brett la stessa esistenza della donna ha offeso il mio senso di giustizia il suo senso di sta dicendo che è una sorta di indignazione di diritto era la malvagità pura un assassino a sangue fresco che ha commesso l'omicidio sulla terra del nostro impero ma il nostro impero buona nulla ha fatto niente nemmeno niente neanche un pochino ho dovuto pensarci io vola la la bandina della giustizia dai rendere cose giuste per le persone sì è il mio dovere civico è quello che me l'ha fatto fare quindi in breve intenzione omicida come vuoi chiamarle il punto è questo quella donna inglese era era maledetta era maledetta aspetta no non proprio ma facciamo male agli occhi tipo è una rovina sì quella donna inglese era una rovina ho dovuto fare quello che era corretto per la società come joker il problema società no lui lo fa per va bene come non detto poi non ho neanche visto joker una piaga ecco piaga solo va bene in effetti ha una certa ira dei giusti oh no gioco sbagliato eppure l'omicidio è stato compiuto invece da una studentessa sulla spiaggia un crimine per cui deve pagare ovviamente visto che veleno non ha niente a che fare con me sono innocente ok è quello che dice perché mai avrei dovuto pugnalare la donna se l'avessi già avvelenata ed è corretto ma la soluzione è che l'ha pugnalata penso che l'abbia pugnalata con la penna perché la penna ha il veleno all'interno penso abbia messo il veleno all'interno è l'unica spiegazione che mi viene recupera joker ho molti film da recuperare in verità ma ci faccio un pensiero non guardo in verità film tanto meno netflix seppur sento adesso parlare ovunque di squid game così a caso dal niente un po' sì ma non pensavo di recuperare netflix neanche per quello parlando di DC questo sabato nuovo DC fandom ah spam gratuito ehi Aritim spam gratuito piano vai piano Aritim no su discord va bene twitch va dipende c'è motivo per cui l'ha pugnalata penso sia per metterci il veleno sì si squid game lo sento ovunque adesso ma non ho netflix e neanche proprio mio fratello forse me l'ha consigliato ma non ho comunque molta intenzione di guardarlo quindi dice ancora che non ha dato lei il veleno alla vittima ovviamente è come mettere una cintura sui pantaloni quando indossi già delle bertelle come fa lui appunto l'imputata ha amministrato il veleno in seguito alla quale appugnala il testimone ha appugnalato la vittima un atto imperdonabile sicuramente ma non omicidio il crimine sta sulle spalle dell'imputata è così che la legge funziona vede chissà potessi anche imparare qualcosa oggi qui due tentativi consecutivi sulla sua vita in pochi minuti che giornataccia per la vittima detta così in effetti sì mi chiedo se lui è la cintura perché ha detto che non serve la cintura se hai le bertelle sarebbe ironico però se indossassi la cintura e le bertelle ma non riesco a vedere da qui purtroppo immaginate una casa di carta fatta meglio dai coreani ma non ho visto neanche casa di carta se è per questo però coincidentalmente c'entra un po' con il processo di oggi c'è una cappanna di bambù che è tipo la carta ma chissà se viene in maniera simile è un angry games ancora più cattivo ah ok capisco più o meno allora la trazione fai qualcosa di malvagio e te ne cerchi è così che funziona la legge la legge del del ricevi quello che fai c'aveva un nome che era come fai quello che ti vorrebbe che ti fosse fatto o qualcosa di simile o la legge della le scambi la legge anche fisica era che ogni azione equivale a una reazione o posso dire semplicemente la legge del karma ok beh bambù di farci la carta e infatti e se fosse una reference avete uscito prima questo vero di poco che età anno è questo qui 2017 no hanno fatto la remastered però hanno scopo quest'anno vediamo ghiatuken saiba nera 2 release date è il 2017 sì un quattro anni fa cavole e se torni più recente fantastico ne sono emozionato ancora legge del taglione non la conosco legge del taglione ma è tipo qualcosa attorno al karma o della legge della fisica azione e reazione non è il tipo di legge che la la corte sostiene ripeterà perché pensava di pugnare la vittima testimone occhio ecco occhio per occhio è più e occhio per occhio sarebbe anche sì occhio per occhio anche se il modo in cui ha detto è come dire era ovvio che venisse uccisa per quello che ha fatto occhio per occhio è più una cosa volontaria mentre il karma è più una cosa automatica si può dire quando ho sentito la ragazza studentessa e l'inglese l'assassina inglese pomposa discutere mi sono salito i nervi mi è venuto mi salito i nervi mi salito il nazismo no ok basta meglio non usare certi modi di dire di cosa stavano parlando? di quello che è successo nel ristorante nove mesi fa ecco cosa quella sua intesta stava accusando no si stava arrabbiando quella gentildonna per aver ucciso il suo mentore dottor Wilson sì John H. Wilson un professore di medicina invitato qui dall'Inghilterra da Mikotoba corretto ma la gentildonna inglese restava impassibile in questo caso doveva essere sentito dalla corte britannica o da un consulente della corte britannica a Shanghai però c'è un po' non c'è molto non c'è dubbio che semplicemente sarebbe stata esclusa dal crimine e tornerebbe in Inghilterra come donna libera comprendevo la studentessa all'interno potevo vederlo la compativo molto hold it è la studentessa vero come era mei era no ma Ray non posso stava logorando la studentessa da dentro in che stai logorando da quando ho capito condividiva un po' la sua idea no di quella donna la odia la rabbia ah ok ah ok è vero vabbè vabbè più o meno in quel modo sì non posso stare qui ascoltare queste stupidaggini Ray ragazzina lei ne puntata non può uscire a parlare quando gli pare no non puoi scusa ma sono in mezzo a una testimonianza molto importante qui stai zitto e ascolta ma ma questo uomo terribile se lo sta inventando scusato per favore devi fargli ascoltare ritorni allo stand me ma mi sa oh ritorni al suo posto me ma mi sa sei in mezzo un conto interrogatorio su eccellenza per favore l'imploro il giornalista è chiaramente un testimone non affidabile esatto è uno sporco marcio del cuore nero bigotto no il bigotto non dovevi dirlo vabbè sarà anche qualcos'altro ma dico così sporco sbircione ma cibiano per favore penso che la corte dovrebbe sentire cosa da dire all'imputata su eccellenza non vede il bisogno di intrattenere di supportare le affermazioni dell'imputata garantirò la richiesta della difesa mamma su eccellenza è probabilmente l'ultimo contro interrogatorio di questo processo lo era anche quello prima quindi credo che sarebbe saggio osservare no no è sempre questo l'ultimo contro interrogatorio sarebbe saggio osservare cosa turba l'imputata quindi seppur questo va contro il protocollo normale chiamo l'imputata a parlare grazie mille su eccellenza tipo il bloccare oh non ho neanche notato prima l'ho circunnavigato ok all'improvviso si intrametterei che è una cosa buona non ha niente a che fare con dottor non aveva niente a che fare con dottor wilson discutevamo il veleno il veleno rubato questo è quello che mi ha detto prima hold it allora il veleno rubato che ha ucciso la vittima dice sospettavo che fosse lei ad averlo rubato voglio dire pensate a come ha ucciso dottor wilson è vero inoltre miss brett sicuramente conosceva bene il nuovo che c'era un nuovo veleno ma sicuramente non sarebbe facile rubare una tossina super segreta sviluppata dal governo e come tutti i visitatori al laboratorio sono attentamente esaminati prima che se ne vanno anche se un ladro non fosse visto da me o un collega portare fuori il veleno sarebbe molto difficile è vero ho importunato il professor micotupa finché non mi ha concordato di mostrarmi il veleno ma quando me ne sono andato mi hanno controllato da testa ai piedi l'avranno portato fuori con la penna ma se la penna era del se la penna è del del reporter allora è lui che l'avrà portata fuori no? e infatti se avessi nascosto nel serbatoio di una penna l'advise ah ok io lo traduzco sempre come sconsigliato ma sconsiderato è corretto ok grazie oh l'advise si consiglia malattia l'advise malattia consigliata mi sbretta rivelata in maniera maniera netta l'esistenza della tossina che sviluppavamo sapete e visto che sudekisana ha spesso tanto interesse in essa non mi sono sentito in grado di rifiutare ovviamente non ho detto niente a riguardo oltre al fatto che è molto potente mi spiace mi spiace molto è che ho avuto una terribile esperienza con un veneno mortale ah qual era il suo processo era camminava per strada no il suo processo era che camminava per strada e è una persona morta davanti a lei pugnalata alla schiena non c'entra niente un veleno volevo guardare il mio vecchio nemico nell'occhio potete capirlo vero se mi sospetti erano scoprire che mi sospetti erano vere no per scoprire se mi sospetti erano veri ho confrontato misprezzo sul veleno gli ho detto che se ci fosse un incidente coinvolto in qualche modo non sarebbe solo l'università ma anche i miei itali sarebbero trascinati in esso l'intero governo sarebbe un completo disastro e come ha risposto mi sbretta ai suoi dubbi ha semplicemente mosso le sue labbra e ha detto che non sapeva niente a riguardo in inglese in verità oh si mi rimevo una piccola domanda se non le spiace mi spiace non puoi dire che sono occupato chiaramente era fuori dalla spiaggia ad ascoltare all'interno mentre l'imputata e Miss Brett stavano conversando quindi immagino che lei che ha scritto l'articolo di quello che ha sentito oh ecco come sono trappate queste informazioni esclusiva veleno mortale rubato dal laboratorio ricerca yumei la storia pubblicata nella edizione mattutina di shoyu news i dettagli sono troppo accurati per essere scritti da chiunque altro scusi non so di cosa sta parlando sì guarda l'intero articolo è quasi tutto quello che ha detto a Miss Brett parola per parola oh oppure sei tu che l'hai scritto no scherzo benveni memosam come giorno come cittadino di una ragione libera non devo rilevare rilevare rivelare le mie fonti è un principio fondamentale del minimoismo mio padre ha chiaramente ragione quel reporter ha scritto l'articolo e l'ha basato su quello che ha sentito da fuori dal capanno ok questo è importante vuol dire che lui sa l'inglese lui sa l'inglese perché siamo in giappone dovrebbe parlare giapponesi in effetti e che cos'era cercavo di coprire il fatto che stava ascoltando per quello che ha trovato quella stupida storia del discutere ti sei inventato quella stupida storia che stavo discutendo con lei zitta le mie storie non puttano mai e guarda quello che qualsiasi cosa dici ragazzina non cambia i fatti su eccellenza c'è qualcosa che voglio dire e voglio che venga salvata voglio che venga segnata inserita nella testimonianza vediamo come si contraddice allora il punto è se veneni qualcuno non c'è motivo di andarlo anche pugnalare ed è corretto l'ultimo che manca da holdare questo però forse dubiti l'efficacia del veleno e pensavi di assicurare che la vittima fosse morta stupidaggini eh serve come mettere pepe sul tuo no non pepe peperoncino sul tuo ramen cinese prima di assaggiarlo completamente avventato anche se potrebbe sorprenderti scoprire che sono un po' un adoratore di peperoncino quando la vittima ha preso il veleno sarebbe morta solo pochi minuti dopo eppure quest'uomo ha poi la pugnalata sulla schiena ci deve essere stato un buon motivo se era il reporter a dare il veleno a Miss Brett allora chiaramente lo deve aver fatto prima che reentrasse nel capanno beh era entrato vero ammesso poi di essere entrato per fargli una domanda sull'omicidio ma lei non gli ha risposto ma tra lui che se ne va da capanno e la vittima pugnalata c'era solo un cambio cruciale nella situazione eh che cambio il reporter ha sentito la conversazione origliato la conversazione tra Ray e l'inghile la donna inglese ah si è quello è lì che Mini Memosan ha scoperto la vera natura del veleno che ha usato potrebbe essere la chiave ah ok ok aspetta quindi il reporter l'ha avvelenata è uscita ma solo dopo ha scoperto quanto era letale il veleno mi sta dicendo o solo dopo ho scoperto come funziona un attimo vi vediamo il veleno aggiornato articoli del veleno rubato dal laboratorio i reporti il Meme Memosan l'ha basato su quello che ha origliato altre info che abbiamo veleno mortale rubato anche la piccola quantità nel corpo si proverebbe fatale ah magari magari lui l'ha avvelenata sperando che fosse una morte non notabile ma poi scoprendo origliando scoprendo origliando che questo veleno avrebbe causato una spalancatura delle pupille ha deciso no non voglio che non voglio venire scoperto così perché così chiaramente è morta per veleno così l'ha pugnalata un po' per distrarre o per confondere le acque forse dice che i sintomi di mo i sintomi respiro pesante finire con contrazione delle pupille non sembra avere però respiro pesante appugnalata l'ha uccisa l'ha uccisa ma sarebbe comunque morta per veleno quindi chi è che l'ha uccisa veramente in effetti tecnicamente era un cadavere ambulante quindi tecnicamente chi ha messo il veleno l'avrebbe uccisa ma è un dubbio curioso capitava anche in un dang a rompa no che non si sa se qualcuno è morto per veleno o per no per per omicidio o per malattia c'era un punto cruciale a riguardo curioso o addirittura chi è morto mi torno in mente ora dang roppabbi casi giocatelo eh ma anche phoenix wright per questo lo sto giocando la vittima aveva già preso il veleno in maniera inconscia il reporter non avrebbe motivo di ucciderla questa logica sembra ragionabile ma non c'è dubbio che quest'uomo era responsabile per l'omicidio di miss brett se potessimo pensare a una spiegazione plausibile del perché poteva pugnalarla anche dopo l'avvelenamento sono sicuro che tutto quanto tutti i pezzi del puzzle finirebbero a posto è quello che dovremmo capire concordo devo provare a cercare più informazioni beh abbiamo la imputata no? e questo è importante no? discutivamo del veleno rubato esatto ed è così che discutendo del veleno rubato è così che lui è scoperto del veleno dopo averla avvelenata però questo è strano in effetti altre cose che potrei guardare no ho visto tutto detto c'è l'articolo ma lo spiega meglio lì forse non devo per forza fare su questo perché magari dopo aver sbloccato questo posso fare anche su altre cose ho holdato su tutto credo allora l'ho pugnalata questo lo ammette quindi non c'è niente da obiettare perché pugnalarla se l'avevo già avvelenata perché non sapevi di averla avvelenata forse no l'avrebbe saputo prima di pugnalarla no? allora è andato più o meno vediamo com'è andata allora lui è entrato l'ha intervistata forse l'avvelenata aspetta forse l'ha colpita con la allora ancora pignetta andiamo suzeki san ah non posso vedere va bene suzeki san ha chiesto di vedere veleno del professor mikotoba e presumibilmente anche anche il reporter è venuto con lui e ha nascosto il veleno all'interno della penna non sapevo niente del veleno se non che è un veleno molto potente poi in seguito li ha seguiti fin qui è entrato da solo con la vittima gli ha parlato e in qualche modo l'avvelenata con la penna come puoi avvelenare con una penna gli dai un colpo di penna magari allora lei aveva la penna in mano è morta con la penna in mano quindi magari ce l'aveva lei e per sbaglio magari si è si è non non puoi ferirti non puoi ferirti con sbaglio per sbaglio con una penna o mangiare il liquido di una penna per sbaglio magari l'avrà messa nel bicchiere per sbaglio reporter o apposta per ucciderla c'è ancora il dubbio che mi turba è che questa qui non è il pugnale o se lo è o se lo è è un po' diverso purtroppo non si capisce bene se questo è un pugnale potrebbe a questo punto ma potrebbe tranquillamente anche essere la penna allora dal colore che brutto non ci sono i colori mi piace però l'effetto dal colore potrebbe essere più nero che marrone ma non ne posso essere sicuro per me è la penna ma non non ne posso essere certo al cento per certo e sono che lui abbia il vizio di leccare la matita prima di scrivere ma se così fosse la penna fosse avvenenata lui sarebbe dovuto avvenenare e non e non lei e infatti però abbiamo visto che la penna è finita nella sua mano è finita qui dopo l'omicidio quindi in qualche modo dopo che il detector dopo che il reporter e lei hanno parlato brevemente parlato lei non ha voluto parlare dell'omicidio che ha fatto nove mesi fa la penna in qualche modo o è rimasta qui dentro oppure era la penna che l'ha pugnalata anche se c'è però un altro problema il pugnale era trovato sulla scena del crimine sulla schiena della vittima quindi forse è davvero il pugnale a meno che lei non l'abbia cambiato in qualche modo ma mi pare improbabile quindi allora a questo punto sono più incentivato a credere che questo era veramente il pugnale anche se il dubbio resta lo stesso quindi ipotizziamo che tanto il gioco non vuole comunque che faccia ragionamenti in avanti ragioniamo su quello che sappiamo per ora allora prendiamo per certo che questo è il pugnale quindi è stato pugnalato la schiena con questo e lei ha la penna in mano quindi vuol dire che la penna che il pugnale è entrato nella scena durante la pugnalata mentre la penna è entrata nella scena quando l'investigatore o quando il reporter è entrato di soppiato qui dentro per parlare con lei in qualche modo gliela l'ha lasciata sul tavolo o gliela l'ha lasciata in mano non capisco perché gliela l'abbia dovuta lasciare però così la venata per sbaglio o meno perché può anche esserci per sbaglio dopo tutto il veleno è dentro una penna o dovrebbe essere ma anche qui pensa troppo in avanti dopo tutto il gioco non per il gioco non si sa ancora che c'era il veleno nella penna ci dobbiamo arrivare dopo non penso devo fare troppi passi in avanti quindi sappiamo che lui l'avele nata in qualche modo e poi l'ha pugnalata e prima di pugnalarla non sapeva bene come era il veleno ha scoperto un dettaglio del veleno che l'ha spinto a pugnalarla il fatto è che dettaglio doveva scoprire magari l'ha avvenenata per sbaglio attraverso questi qui e non voleva ucciderla ma poi l'ha uccisa allora no allora invece qui che morendo con il veleno si sarebbe indicato il sintomo e quindi si sarebbe scoperto che lui ha rubato il veleno no potrebbe essere questo com'è quando le ho sentite discutere mi sono saliti i nervi o mi sei tornato a z va bene sì niente a che vedere con il dottor Wilson discutevamo del veleno del veleno rubato ok il punto è se avveleni qualcuno non c'è motivo per pugnalarlo pure e sarebbe vero allora per me è questo è il secondo il quarto il quinto ma non so con cosa quando fa domande solitamente devi rispondere in quel modo non quando fanno affermazioni a volte ma anche quando dicono perché dovrei e spieghi il perché dovrebbe a volte ecco il fatto è che sono molto simili questi e l'ultimo no perché l'avrei pugnalata se l'ho già avvelenata sono identici il secondo e il quinto dicono più o meno la stessa cosa se avveleni qualcuno non ha senso pugnalarlo è qui perché pugnalarla se l'ho già avvelenata è il contrario o entrambi van bene oppure non sono quelli giusti discutevamo del veneno rubato allora di cosa cosa posso inserire qui la pugnalata ha trafitto anche un polmone ma è morta potevo vivere per ancora un po' va bene non ci importa forse questo ci dà altri indizi non molto se non il bicchiere ribaltato la bottiglia e la penna questa non sarà più la penna vi vedo un attimo allora ancora grazie appunto questo somiglia troppo al pseudo pugnale sulla scena e contiene un minimo di liquido vero non si nota ma c'è un minimo di liquido qui ma penso ci dobbiamo arrivare dopo qui c'è il reagente chimico non ci serve ancora e pugnale che non ha traccia di veleno neanche un po' e c'è la mappa lo svegliava tipo da qui e qui è pugnalata o da qui e basta vabbè comunque era quindi per certo penso l'unica cosa l'unica cosa l'unica cosa su cui dovrei abitare è l'articolo di veleno fai sull'ultimo dai se avveni qualcuno non c'è motivo di pugnalarla il motivo sta qui dentro da qualche parte posso dire così il motivo è che non volevi scoprire che il veleno è stato rubato forse scopri che avvenarla non era la cosa migliore perché così si scopre che hai rubato che hai rubato tu sì sì ok forse ho capito forse ho capito perché se fosse morta per veleno avrebbero subito cercato il veleno sulla scena e avrebbero provato a pensare alla penna e la penna conduceva inevitabilmente a lui quindi l'ha provato a uccidere per confondere un po' le acque per evitare di pensare subito al veleno forse ah e non poteva neanche pubblicare la storia del veleno è vero anche quello anche quello o soprattutto quello poi in ogni caso è per coprire un po' il fatto che è morta per veleno in ogni caso quindi il pubblico del veleno objection beh posso pensare a un motivo cosa ma prima di spiegare vorrei che mi confermi qualcosa le informazioni di questo articolo le ha prese da quello che ha origliato dal capanno certo che l'ha fatto non c'è dubbio dopo tutto quando eravamo al laboratorio assieme ci ha detto che era solo una terribile tossina oh bello ci ha detto che anche lui era al laboratorio ma questo poteva in effetti presumerlo e c'è un altro fatto importante da considerare secondo i testimoni o il test il testimone l'attacco verbale di Mbami-san verso la vittima è cominciato appena entrato nel capanno in altre parole sarebbe stato impossibile per lei mettere il veleno nella bevanda di Miss Brett dove vuole arrivare Mbami-san ha reso chiaro che ha osservato ogni singola cosa che è successa nel capanno se l'impuntata avesse trovato un'opportunità quell'uomo l'avrebbe l'avrebbe vista vuol dire che Miss Brett non ha bevuto il veleno mentre l'impuntata era presente infatti gli è stato amministrato prima che Mbami-san entrasse nel capanno io ho ben trovato Paul siamo qui a parlare di penne no penne non ancora ma veleno veleno sì punto articol mi sono articolato quando sono entrata sono subito subito cominciato a pressarla sul veleno a quel punto Mbami-san ha origliato delle informazioni preoccupanti informazioni preoccupanti che informazioni preoccupanti dei sintomi del veleno no le informazioni che sono state incluse poi nel suo articolo quindi che il veleno era stato sviluppato in segreto e che non poteva essere ottenuto normalmente ah anche quelle vero oltre al sintomo che il veleno usato per ucciderla è segreto quindi pochi possono accedervi e tutti quelli che vi sono accessi sono sospettati assolutamente infatti è anche è ancora più complicato l'unico posto possibile in cui ottenerlo è dal mio laboratorio inoltre chiunque afflitti dal veleno avrebbero segni segni visibili durante la morte dopo la morte l'estrema costruzione delle pupille si si nota quando lo vedi Liutaro dove cavolo è Liutaro è ancora a Londra no? si diverte con Erlok Sholm sa fare boh logica e retorica no? di penne buone di penne non sappiamo non sappiamo ancora come è la velenata ma è sicuramente la penna in qualche modo poi ci sono un 60 giorni di viaggio da qui a Londra ci sono altri veleni che mostrano sintomi simili ma non tra le nuove ma non tra le sostanze nuove che sono che non si possono identificare c'è un modo per dire inidentificabili non identificabili va bene ma esiste inidentificabili che tipo non i vabbè comunque si è l'unico veleno che potrebbe fare entrambe le cose in altre parole sarebbe chiaro che la vita della vittima è stata finita dall'uso di quel veleno particolare al 100% se ne può essere anche certi no? che ridurrebbe il numero dei sospettati a solo poche persone chiunque nel mio laboratorio sa delle proprietà uniche della tossina che stiamo sviluppando nessuno di loro sarebbe stolto abbastanza di usarla per qualche fatto malvagio ma mi sa non è eccezione quindi possiamo concludere che chiunque gli ha amministrato il veleno era una persona aggiuntiva che non sapeva delle sue proprietà in altre parole qualcuno come lei raito il mini memo è finita? no manca ancora di come l'avere nata vero? e come l'ha rubata dopo tutto è lei che ha rubato il veleno dal laboratorio quel giorno ed era lei che l'ha amministrato la vittima ma ha subito realizzato che ha fatto un terrificante errore perché il veleno ha causato sintomi insoliti e così riconducibili così mentre ascoltava dall'altro lato del muro del capanno ha scoperto questi fatti ma aveva già dato il veleno alla vittima in quel punto era troppo tardi quindi ha fatto un piano per camuffare il suo errore and if mi torna in mente per qualche motivo steam times ma se andassi ma se andassi a pugnare la vittima per camuffarlo da omicidio col pugnale devi lisci li devi non so come vabbè vabbè non importa quindi ha fatto un piano per camuffare il suo errore un piano che coinvolge che riguarda pugnare la vittima sulla schiena attraverso il muro ma ma a cosa potrebbe mai servire non è ovvio il pieno era per uccidere Miss Brett prima che il veleno potesse avere effetto appena entrato nel sangue il veleno causa la costrizione pupillare ma sperava di evitare la morte della vittima no di anticipare la morte della vittima prima che accadesse è vero esattamente perché senza segni di vera attrici del nuovo dell'uso del nuovo veleno nessuno sarebbe nessuno l'avrebbe sospettato è straordinario sì gli effetti del veleno vuol dire no gli effetti del veleno sarebbero facilmente identificabili quindi killer ha dovuto nascondere il suo uso per questo ha tentato di mettere il pugnale nel mezzo della schiena della vittima beh ora che è da dire sì troverai altre stupidaggini da per scappare sì ordine argomento è solido la corte è soddisfatta di questa spiegazione la procura ha un contrargomento beh ci sono molte cioè sì non nego completamente la risposta evasiva della procura chiaramente mostra che nel stesso modo in cui ci sono i rimasugli del suo ciuffo si aggancia alla sua ultima speranza e le per per questa speranza full counter il full counter è quando fa il 360 prima di fare l'objection dobbiamo ancora vedere un 360 un objection 360 è super epica oh va in rage mod entrate in rage mod sai quando entra in rage mod che è veramente il vero assassino ma si si sapeva sapeva già va bene patetico inutile samurai caduto caduto chi chiama il caduto la macrescita sta ancora non mi serve un contrargomento che cosa sta dicendo dovrebbe essere palese ho rubato il veleno dici ho dato alla vittima dici pugnalata dici molte teorie carine ma non mi serve un contrargomento perché non hai un argomento te stesso dove sono le tue prove si lo vuoi suonare così plausibile vero ma senza prove non vuol dire niente dove io baso le mie news sui fatti fatti che intendi si spieghi voglio dire quello che il professore ha detto prima nel processo è tutto qui nei memo ogni parola ogni ogni errore tutto segnato è per questo che shoyu news è famoso per il potere della parola stampata sicuramente non sarebbe facile rubare una tossina segreta sviluppata dal governo e come tutti gli ospiti laboratorio sono esaminati quando escono anche se un ladro non è visto da me e un collega portare fuori il veleno sarebbe molto difficile non è impossibile no come allora ho rotto ho rotto la storia no suona male scopo va bene non importa vedete io sono un semplice reporter della shoyu news non potrei mai aver rubato quel veleno del laboratorio del professore ahah oh basta sti urli ehi ma non c'è non ci può essere dubbio deve aver rubato il veleno quel giorno l'ha rubato e l'ha usato per uccidere e se quello è il caso come identificato il veleno stesso è la prova definitiva che ci serve perché chiunque perché chiunque l'ha rubato dal laboratorio quel giorno è il vero omicida qui quale cosa sta cercando di dire tu fastidiosa fastidioso handsome ragazzetto di campagna o di provincia il mio punto è questo c'è un c'è un modo che lei minimo san poteva rubare il veleno quel giorno ho sentito abbastanza congetture verbali ora grazie quello che la corte deve vedere sono prove tu prova che il testimone ha rubato il veleno quel giorno in questione prova la penna non è una la penna di sé non prova ma devo combinarla con il reagente chimico penso sia la penna ma non è proprio una prova è il modo in cui per dimostrarlo devo usare questo ma la penna sarebbe no ho altri in giro da vedere no la penna va bene take that la prova sua eccellenza è questa penna fontana questa penna come può essere rilevante queste penne magiche in qualche modo hanno abbastanza inchiostro per scrivere centinaia o migliaia di caratteri kanji credo che arrivano sullevati nella nostra regione per la prima volta un 15 anni fa io sto solamente con la carigafia per pennello queste penne nuove sono semplicemente brutte va bene parafraso come un uomo che pensa che pensa in avanti ovviamente io amo le mie penne a fontana vado che cos'è prendo il sup cos'è il sup al loro interno permette di far presentare in ordine a scelta speria vabbè no penso prima la penna perché l'altro sarebbe poco generico non penso la scelta prima la penna era giusta ma forse potevo poteva parafrasarla in modo diverso tipo non vabbè ho fatto comunque giusto ma non è la prova che dimostra ma è l'oggetto con cui l'ha fatto uscire o come l'ho fatto uscire ma comunque lo prova lo stesso perché c'è il suo marchio sopra il cui inchiostro viene risucchiato attraverso la fessura della penna per scriverci più tardi e cosa che fare tutto questo succhiare l'inchiostro sia come è possibile risucchiare l'inchiostro nella riserva è anche possibile farlo uscire attraverso attraverso la fessura di nuovo ovviamente oh c'è può davvero essere beh menimemo san quando ha visto quel veleno mortale davanti ai suoi occhi nel laboratorio ha usato la sua piena fontana il tuo sangue vitale per rubarne un po' vero mettendo il veleno attraverso la fessura nella riserva della penna ma aveva una penna vuota apposta no l'ha svuotata sul polso ha svuotato la penna sul polso per avere tutto vuoto no oh cielo avrebbe anche senso ecco perché è sporco altra sordità non è mai successo vero abbiamo sentito che c'erano procedure per evitare che questo accadesse nel laboratorio ma chiunque pensava di guardare dentro una penna fontana no sono un po' pentito di dire che per temere di offendere gli ospiti una ricerca così accurata non è stata condotta ma come è un veleno mortale di stato spaventoso devo dire ricordo che la penna è stata trovata nelle mani della vittima quando è morta in altre parole è stata persa la scena del crimine da meni memo san quindi la domanda cruciale è quando ha perso la penna esattamente sto suggerendo la conclusione logica è che nella sua fretta nella fretta di agire mentre la vittima era distratta ha perso la penna mentre metteva veleno nel suo bicchiere ci possono essere molte altre spiegazioni per esempio testimone poteva usare la sua penna per scrivere i dettagli della conversazione con la vittima quando è scioccato dalle sue risposte oltraggiose la penna è caduta no non può essere sarà così allora perché spiega che la penna è senza inchiostro? cosa? come può vedere se esamina le prove? sembra che non ci sia inchiostro nella riserva quel reporter va a intervistare qualcuno con una penna vuota no la penna è stata persa dopo che il veleno ha riempito che a me la penna è stata persa dopo che il veleno che ha messo nella riserva è stato svuotato nel bicchiere della vittima testimone cosa ho da dire in sua difesa? quindi cos'è che funziona il vostro sistema di giustizia moderno? e se l'inchiostro nella mia penna è finito? e se la mia penna si rompe? posso sempre tornare nel mio gioco ho molta in riserva è bello che dice è che non so claw my way posso artigliare la mia via riartigliarmi la via in gioco e c'ha le penne e mettete come fanno i bambini alle elementari aspetta fanno gli artigli di Wolverine con le penne un attimo con quattro ah c'è anche del pollice ecco qui ahah sono Wolverine così si fa gli elementari solo che ha molto stile perché le tiene tutte in maniera super simmetica ritiene lui è bravissimo è bravo con le matite lui più o meno così ecco perfetto è divertente è un gioco di parole appunto con gli artigli presumo dio che c'entra dio stavolta attento alle penne che lanci è davvero arrabbiato dici che ho messo veleno nella mia penna sono solo speculazioni niente di più se pensavi di di sistemarmi così di sistemare un cittadino per bene come me con un trucchetto di quel tipo pensaci bene sembra che dovremmo trovare un altro modo per dare il colpo decisivo per come lo vedo la situazione è molto semplice dipende tutto dal fatto se il testimone ha rubato il veleno nel giorno in questione e quindi dipende se la difesa può provare questo fatto con le prove non possono esistere prove simili ce l'ho qui nell'inventario minimemo san è così che funziona il nostro sistema di giustizia eh uno è troppo infatico forse scusate tra il tribunale le prove sono tutto qualcosa che faresti bene a ricordare perché sembra ben oltre la speculazione a questo punto te l'assicuro bene bene allora chiamo difesa presentare la prova sopra menzionata è così allora sarà l'ultimo pezzo del puzzle la difesa può provare con questo oggetto che è con la pena del testimone che ha rubato il veleno con chiaramente il reagente chimico cos'è questa bottiglia questa bottiglia contiene il reagente chimico che può identificare il veleno sì quel veleno è una nuova sintesi di alcaloidi fatti dei colleghi e io e sarebbe impossibile identificare le tracce in qualsiasi altro metodo oh da un'altra prospettiva semplicemente con questo reagente chimico chiunque può vedere se c'è veleno un reagente cosa una goccia del contenuto della bottiglia sulla cima della piena fontana minimo san è tutto quello che basterà per risolvere il caso oltre ogni ragionevole dubbio e parte parte non puoi non voglio i tuoi crimini sono in pessimi abbastanza almeno sappi quando ammettere la sconfitta specie lenza la difesa richiede il permesso di fare un test sulla penna e ora ora c'è il break c'è il breakdown che addirittura non è colpa mia l'impero me l'ha fatto fare cerco di fare una civiltà migliorata non mi do la giustizia per il bene mini 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 sono stato con me sono qui doppio sudato takedown bello l'ha fatto bene era un sudato takedown wow adesso ci sono il sudato se il gioco continua così con il sudato takedown su ogni criminale allora è il gioco migliore della storia se fa così su ogni criminale allora è perfetto la chiamata susato potrebbe vabbè la possono scoprire ma ormai è tardi non proprio quello era un riutaro takedown ah ecco vabbè la corretta git un super git ma neanche l'istante in cui la prima goccia di reagente ha toccato la cima della penna è chiaro che tutti quanti presenti no era chiara tutti quanti presenti ah non me le fa vedere però quando l'ho visto il laboratorio il veleno io la mia parte malvagia ha preso la meglio e ho deciso di prenderne un po' mi son scusato e ho svuotato l'inchiostro giù per il levantino levando la riserva in maniera attenta forse si è sporcato il polso allora mentre puliva tutto quanto poi ha atteso l'opportunità per prendere un po' di vereno vero? nella sua penna a fontana si è corretto mi risponda Menimemo-san perché l'hai rubata? per che motivo? non è ovvio per scoprire come era fatta e per esporla in un articolo voglio dire era un progetto segreto troppo succoso per un giornalista come me allora perché la donna inglese è finita morta? sono entrato nel nel capanno per far per porre domande sulla situazione tutto qui come reporter una nota killer che si diverte nella libertà e va della giustizia lasciando la regione gli ho detto cosa ne pensavo e lei mi ha riso in faccia oh cos'è? un cavernicolo che fare che cerca di fare giornalismo giornalismo? davvero? devi imparare la differenza tra fare giornalismo e ascoltare le persone tu plebe ignorante come mi hai chiamato? questa regione la sua la sua pretesa di giustizia è una ha una pressa ha un giornalismo libero è davvero deprimente vedi il nostro west in modi molti superiori in molti modi superiore no vedi i nostri metodi superiori dell'ovest eppure ti manca la capacità mentale di emularli vattene stupido vattene fuori e sgagli e è scivola o più che altro sgagliattola nella caverna da dove sei uscito o striscia forse è ancora più malvagio free press stampa senza censura ok grazie ma ma non sembrava che diceva che non c'era vabbè in ogni caso si l'hai insultato parecchio e allora che ricordai del veleno mortale che avevo nella mia penna che storia terribile nella mia testa sapevo che dovevo andarmene più in fretta possibile ma non potevo non potevo farla passare liscia con quello che ha fatto quando chiaramente non aveva alcun rimorso immagino che era il mio spirito da giorno mi sono acceso troppo da un lato capisco quello che ha fatto ma doveva magari ammetterlo subito nel caso non nasconderlo se proprio il suo spirito di giustizia lo spingeva così tanto vorrei chiederti qualcosa si spesso parli di giustizia ma sicuramente come giornalista potresti avere altri metodi per dare la giustizia che pensavi non c'è giustizia nella stampa dopo il processo nove mesi fa ho continuato a scavare scavare per scoprire cosa è successo nel tribunale e finalmente ho scoperto la verità era una copertura ecco cos'era una copertura? che intende? ricordo la sua posizione testimone attenzione a cosa dice oh forza non vi suona strano all'improvviso non possiamo più condannare persone straniere la giurisdizione consulare non deve mai essere esistita eppure quella donna inglese è stata per salpare via libera l'unica spiegazione è possibile che dietro le scene qualche patto è passato tra Giappone e Britannia che sorta di patto? ho fatto le mie ricerche ho scoperto la polvere è tutto pronto per essere pubblicato ma sai cosa è successo? l'articolo l'editore ha appena strappato l'articolo intendi che il governo gli ha fatto pressione? se il nostro governo lascia liberi criminali così e se e se interrompono la e se non garantiscono stampa libera senza censura allora che scelta ho? se non cercare giustizia per me non dimentichiamo menimemo-san che anche lei è come somicidio e ha provato a dare la colpevolezza all'imputata mi spiace ma non sei meglio di cesai Brett co la verità è che non è diritto di parlare non è diritto di parlare di giustizia io immagino ci vuole dire magari cosa ha scoperto del complotto voglio un attimo parlargli per sapere del complotto ma mi sa non possiamo semmo abbiamo raggiunto la conclusione del processo consiglio per la difesa aiutare un erucodo oh si scusi sua eccellenza stavo solamente riflettendo in maniera maschile qui è quasi incredibile che la tua prima esperienza nella Corte Suprema era una performance eccellente in verità mi ricorda molto gli exploit di tuo cugino oh naruhado riyurosuki intende il modo in cui gestisci i processi è il modo in cui tu hai gestito questo mi dà la speranza che stiamo entrando in una nuova era di giustizia in questa terra molto mi sono onorata sua eccellenza sentire la difesa che hai fatto oggi mi fa sentire molto kingly speranzosa molto preso molto come si può dire vabbè molto mi ha fatto sentire molto colpito ma nel profondo si può dire no che il nostro futuro del sistema giudiziario sarà forgiato da lei e i suoi contemporanei acutamente ah ok perché la frase continuava io pensavo fosse una frase finita grazie quindi procuratore auci pensieri finali dalle dimissioni cosa sotto procuratore auci io takezuchi del clan auci sono stato sconfitto da un giovanotto di nuovo non una volta ma due se ci fossero pezzi rimasti del mio vecchio se sono morti qui oggi cielo il tuo viaggio per l'illuminazione culturale sicuramente ci ha messo un po' eh silenzio piuttosto che vivere no no piuttosto che vivere nella vergogna la finirò qui con questa lama la cosa brutta è che accadono accadevano veramente queste cose per quella che la via vera via per l'auci ismo auci ismo uno spera che è l'unico modo in cui si modellerà sul spera che è l'unico modo in cui si potrà modellare nuovamente dopo che il testimone è fatto colpevole no non può ma che se pucco ma che se doku ma che è onorevole non è onorevole di non è onorevole prendere la via facile uno deve arrivare al true ending non è il true ending se fai questo tanto ramo del ramo del mio ciuffo il tempo è corretto per l'addio la speranza è persa per sempre taketsuchi ok meno male meno male io pensavo la facessi finita in altro modo bellissimo ma che delusione po' tanto non potrebbe accadere una cosa simile nei saturni dai muore la gente ma non muore così a gratis secco e lei è ora innocente ora riguardo l'imputata ray mbami san sì sua eccellenza ho raggiunto il mio verdetto finale la dichiaro non innocente cioè non colpevole volevo dire oh no immagina che trollata not innocent guilty no mi ha fregato non innocente ops stanno tutti pregando eh sì ha appena ucciso la sua ultima speranza o sarà per quello sull'autopreme F ma non ci sono ancora le tastiere in quest'epoca la corte si aggiorna uff andrò ogni volta in corte suprema è sempre un'ansia certamente 13 agosto corte suprema del giudizio va bene come al solito è finita il mio cuore sta ancora battendo sul petto però è tutto quello che posso fare è stare in piedi gli avvocati hanno grande responsabilità un grande fardello da tenere vero naruhodo san e Kazuma vabbè Kazuma non ha vissuto molti molti casi suzato suzato grazie grazie mille eri eri così eroica lì dentro lei padre onestamente ero così toccata tutto quello che oh no penso sto per piangere non era facile ma assieme ce l'abbiamo fatta anche io alla fine ero sul punto di piangere l'unico motivo per cui son qui è per causa tua oh no non posso prendere tutto il credito mi son preso il coraggio di dire la verità anche tu hai fatto fantasticamente rai quindi direi che le congratulazioni sono per te suzato non essere così stand off tipo non cercare di lasciare così il podio no 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 tipo punto morto bene in effetti dire merito tuo no tuo no tuo diventa boh sarà un modo di dire per quella cosa scusa siamo amiche uguali e il processo è finito niente più formalità non più queste follie di super umiltà è tempo di celebrare con lo swag swag con i swaggers alla scena buttiamo la buttiamo l'attenzione al al selvaggio cioè basta più questa super formalità e attenzione attenzione eh sono la grande avvocato sono grande avvocato di difesa aiutare un arrocotto e ti porto al bar del latte domani è qualcosa insimile vero capisco ci pensero lei ogni caso abbiamo sistemato quell'uomo arrido e mi sono sentita così felice sì era soddisfacente allora davvero non c'è nessun altro che possiamo lanciare assieme spero non guardate me povero no 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 pensiamo come sa che gli so che riesce a farti obbriacare beh se ne bevi tanti tanti direi di sì dai oh cielo oh cielo no certo che no certo che no ecco qui l'adorabile sorriso di rei è combattuto per la tua amica fino alla fine come tuo padre sono estremamente fiero di te avvocato di difesa Ryutaro Narukodo grazie ma non ce l'avrei fatta senza di te comunque è tempo di dire addio a Ryutaro penso mi mancherà ma è tempo di tornare a Susato Mikotoba allora no per me c'è un altro caso in questo tribunale e si farà per l'ultima volta con lei trovestita ancora e accadrà una cosa ancora più folli sicuramente quindi non lo vedrò non lo vedrò più allora ah che peccato cosa che succede ora cosa sta accadendo oh eh hanno trovato mentre si stava togliendo il costume eccitazioni cubichiane sono sprecate qui sì mi sa Zoro mi spiace per la frase di prima infatti non l'ho capita ah sono chissà ne ispettano Sonaga spero stiate bene lei sono davvero tu ma sì ho dovuto cambiarmi per beh ovvi motivi spero ma sono io Susato Mikotoba così eroico così divino no doppio eroico ecco sì è sicuramente divino guardati non avevi idea ha messo il suo dato San Escair che è la studentessa che è la cugina del loco studente Naruhodo-san sorprendentemente hey Saturni hey Saturni eccolo qui lo dice povero povero Susekisan così confuso ricordo ancora la prima volta che l'ho incontrato erano in una cella a Londra che strano casino in questa occasione si è trovato coinvolto quello studente del Giappone ma dopo la bea difesa di Naruhodo-san al vecchio bastione era libero di tornare in Giappone e ora sembra essersi meritato grande fama come autore sono stordito è un travestimento davvero sorprendente anche se non aveva idea sono un capo ispettore della polizia che si è inventato Mr.Tartle si i travestimenti di Susato sono molto meglio dei tuoi dovrei dire perché lei ha chiesto il portale Susato al Milk Bar si ma accentrà con un film di Kubrick ok non lo idea però mi spiace non sono sicuro dovresti ammetterlo ispettore sorprendente è una donna è una donna di molte facce vedo solo due davvero ed era una una sola volta nella vita spero ah non so niente rispetto a lei però ispettore ah ah il suo travestimento in effetti è perfetto no beh sono un professionista ovviamente ah mi preoccupo dell'ispettore a volte davvero nove mesi fa quando è apparso qui la corte suprema testimoniare sotto copertura camuffato da capo cameriere e poi e poi nella nave per la gran britannia ovviamente camuffato da marinaio aspetta non l'ho mai visto vestito da ispettore vero si è mai visto vestito da ispettore no mai come si veste da ispettore quello non si veste da ispettore è sempre è sempre travestito anche se non ti hai aiutato vero Kazuma Sama dalla mia prospettiva devo ammettere che ho mischiato i sentimenti a riguardo o sentimenti misti a riguardo voglio dire ora che la verità è persa per sempre che intendi parlo dell'omicidio della donna inglese ha commesso l'ultimo anno oh si ha ucciso il dottore inglese vero dottor John H. Wilson si l'uomo che ho inventato io in Giappone il mistero è perché lei l'ha ucciso e ora che il colpevole è morto non sapremo mai la risposta penso che l'ultimo caso sarà l'apice di tutto quanto ma ci vorrà ancora un po' nel viaggio in Gran Bretagna abbiamo avuto un incontro inaspettato con Mr. Erlock Sholms il gran detective intendo si ricordo Sholms bene ovviamente la mia arcie Nemesis leggerò da parte tua dire il suo nome beh secondo le storie che lei ha pubblicato nell'avventura di Erlock Sholms il detective una volta no non l'ha pubblicata lui pardon l'ha pubblicata Iris no il detective aveva un amico che li aiutava a risolvere i crimini il miglior amico e quell'uomo era l'eccezionale dottore di medicina dal nome di John H. Wilson eh Tarwison non posso crederci che è una coincidenza boh non ho più troppo freddo mi tolgo anche la giacchetta qui era per fare scena solitamente ecco qui ah mi sento più leggero un po' più fresco però si penso che il dottore di medicina che hanno che ho ucciso qui nove mesi fa era l'amico e il partner di Mr. Sholms e se davvero vero allora la povera ragazza non vedrà mai più suo padre è triste dire cioè resta orfana aspetta chi è sua madre però beh come sai ho viaggiato in Britannia una volta a studiare attorno al tempo in cui sei nata esplosioni per la nuova orfana si eh prego era attorno al tempo in cui sei nato in cui sei nata sì mia nonna me ne ha parlato tornando in Giappone ho ho preso il mio diploma all'università imperiale ma ho servito anche un altro ruolo come consigliere per gli affari diplomatici del governo eh sì lo sapevo in quel caso sicuramente capirai che c'erano questioni confidenziali che non potevo dirti potessi dirmi una cosa perché mi hai richiamato in Giappone sono due mesi ora da qui sono tornata quando me ne sono andata dall'Inghilterra e prevedono un telegramma urgente ha detto che eri collassato con molta febbre e diventavi ogni volta più debole che cosa da dove sono venuto quelle news dove l'hai saputo è quello che vuoi sapere perché dopo il viaggio in mare ti ho trovato in prefetta salute padre c'era qualcosa in Britannia che pensavi poteva problematizzarmi o farmi male c'è davvero una spiegazione che posso che mi può venire in mente povero me risparmi i tuoi sguardi più taglienti per tuo padre scusato mi spiace cara semplicemente non può lasciatemi andare oh 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 magari può dirci delle news che ha scoperto della cosa che ha scoperto quindi un lancio non era abbastanza per te ultima cosa dire prima che mi portino via professore e io sulla verità so che c'entri qualcosa in quello che è successo nello studente nel fatto di quello studente di visita studente di visita cioè se beh ti intendi non lei lo studente di legge che si è andato dalla britannia otto mesi fa co studente di legge devi intendere Kazuma sama di che parli cosa che fare con Kazuma sama nessuno qui in giappone sa niente di lui non sanno che il tizio non è mai arrivato in inghilterra che è morto sulla nave e che non sarà mai aspetta cosa aspetta aspetta gli ha davvero fatto un giudice takedown che stile che stile al giudice beh aspettavo di trovarlo qui cosa cosa combinano gli ufficiari scusate mi spiace ecco l'esplosione era perfetta Kazuma sama c'entra qualcosa e come anche l'altra volta abbiamo scoperto alla fine siamo spiaciuti sua eccellenza è bellissimo peccato non ci ho fatto lo screen rickshow cos'è rickshow rickshow non l'ho scritto rickshow rickshow ah è rickshow per andarsene va bene è vero il rickshow il rickshow è arrivato meno male che sono venuto anch'io se si è il carretto a piedi ho presente erano ancora i tempi in cui arrivano modano invece in inghilterra hanno proprio il carretto la caro la carovana non carovana vabbè il carro va bene quello dove c'è l'omicidio di McGuid va bene grazie ad occupartene ci rendremo saranno pronti a breve su eccellenza il processo è finito non sono più su eccellenza a malapena l'amico di tuo padre seishino shigoku ha un nome anche lui il giudice ha un nome il giudice ha una vita sociale davvero e poter dire che fin da quando l'ho vista sembra aver parlato prendere sembra aver preso un'apparenza più eroica susato lei lei lo sapeva dall'inizio del processo giudice vede tutto susato non potevo farti compiere il rischio seishiro qui non sapesse seishiro qui non ti avessi saputo e poi ti avrebbe riconosciuta tu così ne ho parlato un po' in anticipo come vecchio amico quindi sei shiro va bene? si dare giudizio su quel caso ora abbiamo altri problemi diplomatici da indirizzare prima che ti arrivata padre scusa dobbiamo tornare nella conversazione di prima no ne riparleremo più tardi ma ben fatto entrambi l'avete fatto in maniera ammirabile l'auto vapore non c'è ancora l'auto vapore va a cavallo dipende poi se un cavallo se cavallo finché punto si può considerare vapore perché se il cavallo tipo va avanti per non so non mi viene la battuta non mi importa l'auto vapore è un hp in che prego non capisco mi vorrei fare su un gioco presumo con hp in giro all's power ah hp per esempio parlavi di health points la vita ecco ah mi ha confuso quello cosa ne pensa il mio lancio 6 shiro eh è da un po' che non ho mandato un uomo volare così sì però mi piacerebbe che avesse finito di dire qualcosa cosa nasconde mio padre da me di jayside brett e dottor wilson e ora pare secondo reporter di kazu masama dovrò riparlarne con mio padre quando nessun altro è in giro tipo lui l'estate e di un'altra cosa che c'è un'altra cosa è un'altra cosa che c'è penso forse è il fatto che ci incontriamo così di nuovo vede c'è qualcosa c'è qualcosa che devo dirle c'è qualcosa che devo dirle credo che potrebbe essere collegato al motivo per cui suo padre l'ha richiamato dall'inghilterra questo devo sentirlo per favore sudaki san mi dica lo farò lo farò come sa il mio tempo in inghilterra era terribile ma hai detto non ho dubbio cose terribili sono accadute grazie al cielo il studente naruhodo sanescair si è messo in gioco dopo che ha assicurato la mia salvezza non vedevo l'ora di tornare a casa tornato in giappone ho fatto un report delle mie esperienze al ministro degli affari stranieri subito dopo ho avuto un ospite era tuo padre il professor Mikatuba voleva chiedermi cosa ho scritto nel report mio padre sembra essere preso da una parte particolare del report comunque sei andato prima o poi avendomi questionato continuamente ma il giorno dopo che mi ha dato il telegramma a lei chiedendone di tornare in giappone cosa era allora quella parte in cui mio padre era interessato penso che quello può essere perché lui non sa niente del caso Mike Gilded e degli affari internazionali magari c'entra con si c'entrerà con il procuratore c'entrerà con il mettitore del bastione il signor Van Zix rompi bicchieri e bottiglie il terrore di bottiglie e bicchieri non so esattamente ma li ricordi i due terribili casi in cui sono rimasto coinvolto i due erano solo no due no l'ho conosciuto la prima volta quando c'era il caso della donna morta cioè donna pugnalata ma non morta lungo la strada nebbiosa ed era il penultimo era il penultimo caso sì l'ultimo era quello finale del del banco dei penni ma lì Susaki non c'entra niente non appare neanche no non pensa appare neanche una volta come testimone neanche no no tu padre sembrava preoccupato con il secondo caso il secondo intendi quello che Shomish ci ha evitato di parlare in pubblico aspetta c'è un caso che non ho fatto c'è un caso del primo c'è un caso avvenuto che non è stato raccontato dal gioco il caso che Shomish ci ha evitato di parlare in pubblico è per questo perché l'unico caso che ti coinvolge che il pubblico sa è il primo il caso della via nebbiosa beh non mi importa non ascoltare cosa quel maledetto detektiva da dire comunque il punto è sembra che quel caso in qualche modo tiene la chiave e tutte queste risposte di queste domande non risposte terrificante caso il caso delle degli appartamenti infestati dovrebbe essere no si dell'alloggio infestato per essere più precisi alloggio infestato sarà il prossimo il caso dell'alloggio infestato oppure questa parte dopo un time skip la vediamo ora penso che adesso vediamo una parte indietro accadeva anche in Apollo Justice l'ultimo caso in verità di Apollo Justice è una cosa strana ma qui è più alla alla Phoenix Wright 3 dove parti con il caso di Mia di vari anni fa accade anche in altri giochi no ricordo accadeva accade due volte in due casi di Mia nel terzo gioco anche in e i Saturn Investigations c'è un un caso del passato che spiega come hanno come si sono incontrati Edgeworth e Kei Faraday quindi non è insolito ecco anche è vero anche in settorni 4 però c'era il caso flashback intendevi quello penso è caduto ben quattro volte sono tante ho di più se mi sono dimenticato quel caso in qualche modo ha convinto mio padre a richiamarmi urgentemente in Giappone pensavo che tutto il business fosse finito ma sembra che mi sono sbagliata forse è solo l'inizio forse la storia non è ancora raccontata è vero c'è ancora quel capitolo no è fine il primo caso no non per forza non per forza davanti alla tomba di Kazuma no no non parla non parla non parla la tomba spero il cielo è un blu brillante mi fa sentire la tomba di Kazuma ma scriverà a Rionozouk strano ecco oppure plot twist di uno zucco è morto e lo scoprimo ora nel flashback fine di questo caso però solamente achievement successo di Susato yey salviamo a a questo punto fare il tirchio con ma no potrei anche salvare da sopra ma si ma non serve salvare ci salvo poi dopo sopra di nuovo è un salvataggio del capitolo nuovo oh cericona di erlog sholm stavolta perché qui però cericona di naruhodo secondo caso le memorie eh del coccoro nuvolato non c'era già non era già un caso precedente scusate clouded coccoro un attimo il primo gioco abbiamo un caso simile no un attimo clouded coccoro era un nome per certo no ho sbagliato vero si ho sbagliato eh no qui qui comincia da capo no no non voglio cominciare il gioco da capo plot twist comincia il gioco da capo no eh allora riproviamo comunque penso di finire ora perché avrei un po' di cose a combinare quindi non penso continuare ma voglio giusto vedere qui coccoro coccoro chan yu chan yu nangat si è la cugina di Yanozuk non è la cugina si è finta sua cugina ecco non sono collegati di sangue tecnicamente se ti interessa per qualche motivo allora la grande partenza abbiamo visto l'abbandono accolata si la stanza mo stanza mobile ecco il cloud il coccoro nuvolato è il caso dove abbiamo visto so se chissà nella prima volta il caso della via nuvolata il caso c'è una donna che è stata pugnalata lungo la strada da un pugnale volante da una finestra dove una litra tra marito e moglie stava andando avanti è un po' deludente ma boh era così il caso ma a quanto pare anche secondo il caso si chiama in maniera identica rifacciamo il processo magari forte come cosa mi facciamo il processo forte forte vabbè allora vorrei concludere prima oggi perché appunto avrei un po' di cose a combinare e poi non vorrei iniziare a lasciare a metà anche perché oh così dura di più i Saturni no? così chiudiamo in tema almeno prossima volta cominciamo freschi freschi ah dici che prima si chiama avventura e quest'altro ha un altro nome non ho fatto caso no ah vero si chiama le memorie mentre il terzo è un return twisted risolve ok hanno nomi diversi non ho letto un nome completo perché non voglio spoglierarmi molto ma nel primo si chiamavano semplicemente avventura ogni volta ok sono memorie quindi non me lo rifare non me lo farà rifare spero dai dire di no allora mi spiegare mi piace interrompere qui appunto perché dopo non ci sono live per altri due giorni sentire un po' d'astinenza ma vedremo volevo un po' cambiare qualcosa per il prossimo sabato dopo Transistor devo ancora pensare a cosa combinare sarà il secondo caso ma sarà uno nuovo collegato a quell'altro penso perché altrimenti non avrebbe senso che ripete il caso da capo va bene per continuare allora vi do appuntamento mercoledì non dovrebbe avere impegni no vabbè nel caso faccio il giorno col parate ma dovrebbe essere il prossimo mercoledì mentre giovedì si fa Unity anche se mi piacerebbe provare a fare una live aggiuntiva di RPG Maker prima o poi per fare anche anche Upper Dam perché adesso appunto alterno Unity e Artesio magari si mette anche Upper Dam in mezzo faccio una volta ogni uno al mese praticamente esatto ritorno Lanciatore Divini ma perché appunto qui una cosa ok che il Signor Auci appare sempre come tutorial quindi appare solamente nel primo caso ma ogni gioco introduce un procuratore nuovo non ci gioco senza un procuratore nuovo presentato quindi qui magari cominceremo con Lanciatore Divini ma poi ci sarà un nuovo procuratore quasi sicuramente cioè è un classico no? ma questa è una duologia particolare vedremo ma io sono ancora convinto che c'è un altro procuratore che magari più crudele magari più gentile con le bottiglie chissà non vedo ora di scoprirlo però beh allora grazie mille di aver seguito mi saluto e ci vediamo in tribunale grazie mille grazie mille